Grazie a tutti. Siamo praticamente la base di grandissima parte del miglioramento della conoscenza economica. Naturalmente molto dipende dalla qualità dei dati e soprattutto dall'atteggiamento di coloro che dovrebbero usare questi dati. Troppo spesso questo atteggiamento non è più favorevole a valorizzare al massimo i dati stessi. Però abbiamo nella storia passata moltissimi episodi di miglioramento della conoscenza grazie alla disponibilità di dati che deve continuare e deve essere di elevata qualità. La speranza è anche che si guardi a questi dati con un atteggiamento di valorizzazione e di utilizzo per migliorare le teorie, per migliorare le interpretazioni dei fenomeni e soprattutto per migliorare le politiche perché poi alla fine da questo dipende il benessere delle popolazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.